Siamo in cielo. Siamo in cielo. Siamo in cielo. La televisione è una scatola, ed è una scatola magica che c'è in tutte le famiglie. La accendi e da casa ti vedono e diventi popolare. Nella chiappa, perfetto, ok. Diretta al popolare diventa chiunque. Basta apparire. Questa è una scatola magica. Questa è una scatola magica. Questa è una scatola magica. Non è una persona. Non è una scatola. Non sono un'azienda. Non sono un'azienda. Non sono un'azienda. Ma non lo hanno dato a quelle persone, ma lo hanno dato a me. Questa è una scatola moderna di Roby Road.